Un infermiere in servizio nel carcere di Reggio Calabria è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale in esecuzione di un'ordinanza del GIP su richiesta della DDA per associazione mafiosa e danneggiamento mediante incendio aggravato dal metodo mafioso. Pasquale Manganaro, 51 anni, di Melito Portosalvo, secondo le indagini svolte dal nucleo investigativo di Reggio è ritenuto responsabile di comportamenti illeciti all'interno del carcere in favore di elementi di spicco della cosca Iamonte e Gemone a Melito. Per l'accusa era il tramite degli affiliati detenuti con l'esterno, un'opera di raccordo, la sua definita instancabile e selettiva dagli investigatori e perfezionata nel tempo con un sistema funzionale al passaggio di messaggi da e verso il carcere dove avrebbe anche fatto entrare oggetti personali per detenuti eccellenti approfittando del minore controllo cui era sottoposto. In un caso avrebbe incendiato una barca come esecutore di direttive altrui. Manganaro, secondo i magistrati della DDA Regina di Carabinieri, era animato dalla volontà di compiacere di Capicosca, tra cui il detenuto Remingo Iamonte. Secondo gli investigatori, dalle indagini emerge un profilo criminale ben stagliato di Manganaro che già nel 2012, come emerso dall'operazione ADA, aveva indotto l'allora sindaco di Melito Portosalvo Gesualdo Costantino, condannato nel gennaio scorso a 12 anni di reclusione per l'associazione mafiosa nell'ambito sempre dell'inchiesta ADA, ad interessarsi in prima persona per l'assunzione della moglie in una cooperativa, ritenendola un tangibile segno di riconoscenza nei confronti degli affiliati della Cosca che ne avevano appena favorito l'elezione.